Allora, un commento, Coccio Tomasini, sulla finale regionale vinta. Domenica abbiamo vinto questa finale regionale e i ragazzi sono stati molto bravi. Hanno affrontato le due partite con molta determinazione, esprimendo un po' il massimo del gioco che siamo riusciti a esprimere in questo periodo. Quindi con pochi errori, molto concentrati, con molta voglia, anche molta voglia di divertirsi. Ci può lasciare un commento anche sulla Junior League? Domani partiamo per la Junior League. Siamo un gruppo giovane, quindi un gruppo di 2000, incontrerà giocatori che saranno anche del 99. Siamo in un girone di ferro, cerchiamo di dare un po' di fastidio a queste squadre molto forti che andiamo a incontrare, già da giovedì. Ecco, infine un commento sulle finali nazionali che si terranno invece a giugno. A giugno andiamo a Chianciano, all'inizio di giugno abbiamo questa finale Under 18, ma io spero che i ragazzi riescano a rimanere concentrati e attenti perché secondo me andremo a divertirci. Grazie.